Tremonti mi ha detto che il made in Italy, un prodotto in Cina o in altri paesi, non è un vero made in Italy. È d'accordo? Sicuramente, ma tenendo conto delle ragioni per cui sono andati a produrre fuori. Senza criminalizzarli, ma è un vero. No, bisogna aiutarli a tornare. Ripeto, chi vuol fare nel nord-est un'azienda non ha terreno su cui farla, non c'è terreno urbanizzato in cui fare nuove aziende. Siccome nel sud, al di là delle tante chiacchiere, noi non creiamo una sola condizione per cui si possa fare un'azienda, io trovo normale che un imprenditore per disperazione se ne scappi all'estero. La questione meridionale e la questione settentrionale sono la stessa cosa, perché il nord non va avanti se non si compra un pezzo di sud. Una forma attuale, moderna, di ente Cassa del Mezzogiorno del terzo millennio, che aiuti le aziende del sud, aiuti le strutture pubbliche, aiuti lo Stato, aiuti la scuola, aiuti le parrocchie, non so, tutti quelli che io... come la vede? Io penso che ci vuole un accordo tra le regioni, cioè del terreno di cui parlavo che serve per fare una nuova azienda, se sta in Campania non si deve occupare solo la regione Campania ma anche la regione Lombardia. Io credo che la rivoluzione è affidare la gestione dei consorsi industriali non solo alle regioni dove i consorsi nascono, ma anche alle regioni dove sono le aziende che devono andarci a investire. Ma come? Come? Con una collaborazione tra le regioni. Ma non basta, cioè dovete creare un qualcosa. La Cassa del Mezzogiorno non è stata tutto il male che si è scritto, ma forse in uno Stato federale quei compiti vanno svolti dalle regioni. Cioè l'idea mi piace ma deve essere immaginata dal sistema delle regioni, non dallo Stato. In altri termini, è una sfida alle regioni del Nord. Le regioni del Nord devono direttamente loro affrontare la questione meridionale. I ragazzi ci chiedono, il Ministro Rotondi, che è uno comunque coerente, una persona che ha una sua linearità, ha fatto delle battaglie anche sui giovani, ha un'attenzione particolare. Da qui a cinque anni, nelle medie, diciamo così, un computer per alunno. Certamente è nel nostro programma. Il computer vale per la ID Internet che era nel programma di Berlusconi, quindi sì, è nel programma. Se si arriva a un computer a ragazzo, lo spero, dipende sempre dalla Cassa, no? Dalla Cassa, dai soldi. Ciò che si compra con i soldi dipende da quello. Io partirei senza demagogia da chi non se lo può permettere, insomma, quindi dalle fasce più deboli. Quindi è nel quale più deboli. Certo. 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 Certo.